Salve a tutti dal vostro Gustro Gusto88 come state spero tutto bene avevo fatto un video un po più tra virgolette allegro uno spot promozionale eccetera eccetera però viste le situazioni insomma che stiamo vivendo fa un video particolarmente simpatico non mi sembrava il caso ecco e con questo non voglio dire che ovviamente fare un video simpatico o meno cambierebbe qualcosa né tantomeno né tantomeno diciamo così fare morti di Serie A e morti di Serie B perché queste situazioni nel resto del mondo succedono spesso e volentieri però visto che comunque siamo un po più toccati ecco nel vicino insomma non mi va ecco di fare un video particolarmente simpatico comunque detto questo ragazzi parliamo della partita della Lazio è stata una partita che ho visto e nella quale si è francamente anche espresso un bel calcio perché gli schemi di Serie A si iniziano a far vedere e siamo stati puniti da una disattenzione difensiva diciamo così una uscita difensiva sbagliata Patrick ha regalato palla al Napoli ed è stato bravissimo insegna a fare un gol veramente difficile e poi nel finale la beffa con Mario Rui che ha presi Mario Rui scusate e non mi viene il nome non mi viene è scelta una pista spagnola vabbè avete capito il quattro del Napoli non mi viene comunque vabbè ci ha condannato alla sconfitta ecco ci ha condannato a una sconfitta sicuramente immeritata stasera però questo è il calcio un plauso per per Pedro perché ha fatto uno dei gol più belli della storia sul calcio ha fatto un gol stupendo e anche poi quando è entrato ha così costretto alla parata o spina sicuramente Pedro il migliore della Lazio per quanto riguarda la pericolosità offensiva Immobile è stato chiuso fra Coulibaly e compagnia bella quindi insomma non è stata sicuramente una partita facile per lui si è reso pericoloso nel primo tempo con un bel tiro che ha sfiorato l'incrocio dei pali però ecco una partita ecco abbastanza di sofferenza per il nostro Ciruzzo ma nel complesso la manovra della Lazio ripeto è stata molto 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 interessante Sarri si vede che sta lavorando bene con questi giocatori adesso che sono finite anche gli impegni europei magari riusciremo anche ad avere qualche soddisfazione in più perché ripeto la sconfitta di stasera sa un po' di beffa il pareggio sarebbe sicuramente stato il risultato più giusto però anzi se contiamo le occasioni forse ce ne vede più la Lazio però detto questo avanti tutta perché si sta vedendo veramente qualcosa di interessante in questa squadra sono felice di come ho giocato la stasera e per una volta nella vita non voglio essere particolarmente critico ovviamente le critiche mie sono sempre e comunque nei confronti della società perché quello che dico in ogni video continuo a dirlo e continuerò a dirlo per sempre questa tifoseria non merita un presidente come l'ho dito detto ciò amici miei io vi do appuntamento il prima possibile nella speranza che non scoppi la terza guerra mondiale e che dire oggi bene tutti anche Patrick ha fatto una bella partita poi ha fatto quella cazzata nel disimpegno ma è stato attento tutta la partita veramente quindi non mi sento di criticare nessuno non mi sento di criticare nessuno è andata così e purtroppo è andata male Napoli ha fatto 2-3 tiri in porta e ha fatto 2 gol stupendi perché c'ha i giocatori forti che ti permettono di vincere la partita anche con 2 tiri in porta sicuramente se giochiamo così da qui fino alla fine del campionato riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni del resto la palla è tonda e gira 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 e a volte ti dice bene a volte ti dice male ti dice male un abbraccio dal vostro Gus e sempre Forza Lazio questo è ovvio un abbraccio dal vostro